Salve amici, siamo i giocatori per caso, facciamo insieme la sfida posizione a telecamere di sorveglianza in una sola partita e ci mettiamo veramente un minuto, anche meno, ma prima di tutto iscrivetevi al nostro canale per non perdere tutte le nostre avventure la prima cosa da fare è andare al monumento magnificente che è quella bellissima statua enorme che potete vedere qui esattamente alle spalle della statua c'è la prima e andando verso sud c'è la seconda non ha importanza come ci arrivate, io ad esempio ci sono andato un po' camminando un po' a nuoto perché qui l'acqua era abbastanza bassa potete arrivarci macchine, motoscafo, planando quando vi buttate all'autobus, non ha importanza però la sfida attenzione è divisa in due, la prima parte vi dice di andare al monumento magnificente e su questo abbiamo fatto un altro video una volta arrivati, qui vi appare la scritta monumento magnificente, se aprite il menu, quello delle sfide, avete la sfida che si è aggiornata fase 2 di 2, posiziona telecamere di sorveglianza, la prima come vi ho mostrato prima è esattamente ai piedi della statua dietro alla schiena, non davanti, dopo vi faccio vedere meglio un fermo immagine la seconda invece se andate verso sud, come ho detto prima, la trovate in mezzo a quel gruppo di palme dovete soltanto cercare due telecamere, queste due sono sufficienti, la sfida è finita in un attimo adesso comunque vi faccio vedere un attimo che sono i piedi della statua, la parte dietro vedete faccio un bel fermo immagine, quindi dietro la statua la prima e andando verso sud la seconda per questa sfida è tutto, alla prossima metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche grazie a tutti grazie a tutti